eccovi qua forse ci sono riuscito visto che youtube non mi fa fare la live dal telefonino vediamo se funziona in questo modo proviamo 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 intanto aspettando che mia figlia esca e cazzeggiamo dimenticato pure la sigaretta elettronica che palle guardate che sto ascoltando non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai ecco chiudo questo è soltanto il testo bello non riesco a mettere il link qua non so come cazzo funziona mi sono dal telefonino facendo una prova però funziona funziona mi vedi bene è arrivata martina quasi sta arrivando incazzata mattina sta arrivando incazzata mattina a questo è nel live vuoi salutare? ciao buonate tutti dai due minuti di live e poi ce ne andiamo mi sono promesso da bambino e sempre ti sarò vicino si di solito è tranquilla se se no adesso è un po' il pezzo il pezzo è molto bravo sei normale? bravo è stata brava in matematica? è fantastica ho caduto il tutto telefono qua con il sole in faccia è fantastica abbiamo 22 gradi nel Salento in questo guardate se devo dire una cosa dì andiamo qua allora tu e siamo in live ti ricordo sì non so se voi lo sapevate no? ma voi andate in cucina vostra no? dovevate pulito e pulito il giorno? c'è vedete in sotto no? quello è giusto il grigio sì alzate vedete che si è alto un po' ne guardate che si è alto un po' non c'è lo potete pulire eh sì l'hai visto su tik tok? ahah bene fantastico tik tok iscrivetevi tutti a tik tok e seguiteci su tik tok tutti e due ci dovete seguire su tik tok io sono Luigi Interforation e tu come sei su tik tok? ti rubo la nutella ti rubo la nutella meno male che non ti chiami il truffatore truffaldino o il truffatello aspetta conosci il truffatore latitante? no eh vabbè avrei tirato con lo sciampone vai 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 come ti chiami ecco qua così si chiama basta basta ti rubo la nutella è fantastico ti dico ti rubo la nutella bugia bugia ti rubo la nutella bugia è fantastico 21 tutto attaccato tutto attaccato con i trattini che separano poi gli mettiamo il link in descrizione e di un bel allora facciamo una prova un piccione un piccione? dove stai facendo? là piccione viaggiatore senti facciamo un test mattina se ti dico Milano cosa mi dici? eh sempre io aspetta aspetta abbassiamo se ti dico Milano se ti dico Roma cosa mi dici? la e se ti dico Juve cosa mi dici? merda come? merda ah ecco hai detto merdissimo merdissimo ancora meglio ciao Ernie minchia quanto tempo che non ti vedo Ernie tutto a posto Ernie? no non è a posto Ernie Ernie finalmente hai tolto il logo la faccia di Messi dal logo bravo bravo ma la risposta non io però metti la cintura lo risposto io metti la cintura si la salata bravo intanto adesso ci stiamo fermando dov'è andare a fare la spesa? la Vittoria dov'è la Vittoria? nooo io dico la Vittoria all'ora beh metti sta cavolo di cintura dove vinci la Vittoria? ah vinciamolo vittoria e te pensi a vittoria a Giannetti? oggi andiamo alla Vittoria a Giannetti? non si fa non si fa pubblicità adesso andiamo al supermercato ciao caramba via Regina via Salentina ehi aspetta via Regina Elena ciao e andiamo al supermercato faccio un po' di... io ho memorizzato c'è la blind c'è la blind girl quella che tu dici che è lo zio Claudio eh? saluta la blind girl ciao io ho memorizzato lei nella qui mi dispiace tutto bene? spero di sì spero di sì ragazzioni spero di sì io sono arrivato al supermercato e adesso vado a fare la spesa detto questo vi saluto ci vediamo questa sera in live sul vero canale quello l'unico e inimitabile inter for passion questo era soltanto un test per vedere se riuscivo a fare la live dal telefonino visto che youtube non la fa direttamente ho fatto le scamotage detto questo ragazzi stasera è live su inter for passion cazzeggiamo e tante cose interessanti a dopo ragazzi Elena 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 ci vediamo